Breve tregua del maltempo in Liguria, ma dalle 15 scatta l'alerta gialla su tutto il territorio regionale, una nuova frana sulla statale 225 nel comune di Cicagna, Amazoni, isolati gli abitanti della frazione Bertè. Riorganizzati gli spazi scolastici nel Tigul e alcune sezioni del Marconi del Pino, ospitati in via Ghio a Chiavari, inaugurato un nuovo laboratorio di 600 metri quadrati per l'agrario Marsano. L'unità della Chiesa non si realizza a tavolino, ma tra persone, Papa Francesco parla del percorso verso l'universalità e l'unità della Chiesa durante l'udienza generale, al termine un nuovo appello per la pace. Addio a Don Guido Todeschini, sacerdote che è affidata la provvidenza, ha dato avvio a Telepaccio a Verona. I funerali venerdì mattina nella cattedrale veronese, trasmessi in diretta anche da Teleradiopace Chiavari. Missionari a Cuba, i giovani della diocesi che hanno trascorso tre settimane sull'isola, restituiranno la loro esperienza in un incontro venerdì 18 ottobre nelle opere parocchiali di San Pier di Canne. Decollata molto bene la stagione dei funghi, complice al clima caldo-umido dei boschi della Valdaveto trovate diverse specie, anche molto rare. Il maltempo ha rallentato ma non compromesso la produzione. Palla a nuoto Eurocup, domani a Lavagna scendono in Vasca Pro Recco e Duisburg, i biancocelesti favoriti arrivano da due vittorie a una sconfitta, disputeranno nella piscina del Parco Tigulio anche la prima di campionato. Buongiorno, ben arrivati al nostro telegiornale. In apertura ancora il maltempo che sembra non lasciare la nostra regione dopo il massimo livello di allerta che abbiamo vissuto nella giornata di ieri. Questa mattina una breve pausa ma già è stato diramato un nuovo allerta che partirà dalle 15 di quest'oggi per tutta la regione. Per tutti gli aggiornamenti che riguardano appunto la situazione meteorologica ci colleghiamo ora con Cristina Capacci dell'ARPAL Liguria. Buongiorno, benvenuta nei nostri studi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come appunto come accennavi effettivamente nelle prossime ore la Liguria torna a essere interessata dal tempo perturbato che porterà precipitazioni ancora diffuse, temporali forti ma anche raffiche di vento sopra i 120 km all'ora e mareggiate piuttosto intense. Infatti l'allerta gialla sarà per temporale ma anche di tipo idrologico. Anche con le precipitazioni poi in esaurimento resterà poi in vigore per seguire insomma il transito delle piene fino al mare. Ecco ti do un pochino ai telespettatori il dettaglio diciamo di questa allerta che sarà gialla su tutta la regione quindi zone A, B, C, D e che abbiamo imparato un pochino la divisione appunto in zone della Liguria inizierà alle 15 di oggi mercoledì 9 ottobre e quella per temporali diciamo finirà domani giovedì 10 ottobre alle 8 sul Ponente, la zona A alle 13 sul resto della regione quindi B, C, D e come zone. L'allerta idrologica invece avrà un prolungamento sui bacini grandi di Ponente nella zona A e quindi appunto a Ponente fino alle 13 e a Levante zona C fino alle 16 sempre di domani giovedì 10 ottobre. Ecco l'evoluzione successiva cosa ci dobbiamo aspettare ancora una una coda di maltempo anche per quanto riguarda le giornate successive? Intanto cominciamo a analizzare che cosa accadrà nel pomeriggio di oggi quando andrà appunto aumentando la possibilità che si verificano verifichi neotemporali forti organizzati ma più isolati capaci anche di produrre però i loro effetti puntuali. Dalla serata poi il fronte perturbato vero e proprio approcerà alla Liguria perché quello che arriverà prima si tratterà appunto del prefrontale e approcerà inizialmente con la Liguria di Ponente dove inizierà a manifestare il suo effetto, i suoi effetti anche sotto forma di precipitazioni diffuse. Durante la notte poi il fronte si sposterà lentamente da Ponente verso Levante e qui ci si attende la formazione di una linea temporale che nella tensione dal mare verso l'interno è anche capace di superare poi la soglia del molto forte che intendiamo i 50 mm orari. La fase più intensa che intendiamo questo anche per vento e mare dovrebbe essere tra la tarda serata odierna e le prime ore della notte ma già da giovedì mattina le precipitazioni inizieranno a smettere sempre a partire diciamo da Ponente da dove è iniziato il fronte. Le piogge in realtà su tutta la regione si esauriranno nella parte centrale di domani giovedì e ovviamente l'allerta però sul Levante seguirà il transito della piena nei vari torrenti. Sarà infatti sufficiente montamena acqua di quella che è accaduta nei giorni scorsi per tornare a avere delle portate analoghe a quelle che si sono verificate ieri. Quello che è anche importante ricordare le raffiche di vento da sud che potranno superare i 120-140 km orari e proprio la ventilazione sarà la responsabile della mareggiata in arrivo perché già oggi il mare crescerà per toccare poi il suo massimo nelle ore notturne. Quindi fra stanotte e giovedì e inizialmente da Osso quindi da vento da sud viverà in realtà con il passare delle ore poi a Libeccio e in moto dosa andrà in scalduta proprio da Ponente a Levante già nella giornata di domani. Quello che ci aspettiamo poi successivamente dei giorni e questo intendiamo anche il weekend un pochino più asciutti. Grazie, grazie per questo aggiornamento e buon lavoro. Buon lavoro a voi, buon lavoro a tutti e buona giornata. Gli effetti del maltempo cominciano a farsi sentire anche sul territorio in particolare. Segnaliamo che la pioggia scesa nelle scorse ore ha provocato una frana che sta isolando alcune abitazioni nella frazione Bertè in via Maccio a Masone. Sono una trentina i residenti nella zona che sono rimasti isolati. Lo smottamento avrebbe investito l'intera careggiata bloccando l'accesso alle abitazioni. Le case sono tutte in sicurezza secondo quanto riferisce il sindaco poiché è collocata a circa un chilometro di distanza dalla frana ma gli abitanti sono impossibilitati a raggiungere la carrabile. Sul posto come vediamo già dalla notte sono al lavoro i vigili del fuoco per cercare di aprire un varco che favorisca la mobilità dei residenti. Un'altra frana ha interessato anche questa mattina la strada statale 225 della Fontana Buona nel comune di Cicagna per la quale si è reso necessario istituire un senso unico alternato regolato da semaforo. Alcune rocce si sono staccate dal versante in località Pianezza finendo sulla careggiata. Sul posto stanno operando i tecnici di ANAS per la messa in sicurezza per ripristinare la regolare circolazione il più presto possibile. Resta attivo anche il semaforo, il senso unico alternato a Carasco tra Bavaggi e San Pietro di Sturla dove lunedì sera era caduto un albero sulla careggiata. A Zoagli invece ieri sono cadute alcune pietre dal versante in località San Bernardo. Il problema è stato risolto dal personale del comune. Cambiamo ora argomento, parliamo di scuola. L'inizio del nuovo anno è coinciso con la fine di alcuni interventi di ristrutturazione che hanno interessato gli edifici scolastici del Tiguglio. Questo ha comportato alcuni spostamenti di succursali per gli istituti di Chiavari e la messa a disposizione di nuovi laboratori per l'agrario in Fontana Buona. Sentiamo. Riorganizzazione degli spazi esistenti, alcuni dei quali ristrutturati con i fondi del PNRR e nuovi laboratori per le attività didattiche. Per le scuole del comprensorio del Levante l'avvio del nuovo anno scolastico è coinciso con alcune novità e cambiamenti che hanno interessato principalmente i poli di Chiavari ma non solo. Come per esempio il nuovo laboratorio di 600 metri quadrati che da settembre ha a disposizione l'Istituto Agrario Marsano di San Colombano Certenoli, inaugurato ufficialmente in occasione della quarantesima edizione dell'Expo Fontana Buona. La sala da pranzo, la cucina e il bar si sono andate ad aggiungere alle aule già utilizzate al primo piano del padiglione fieristico che stanno ospitando tutte le classi della scuola la cui sede in fase di ristrutturazione. Qua i ragazzi si occupano del servizio in questo caso di sala, conoscono soprattutto tutte le tecniche di servizio, i ragazzi conoscono la cucina di sala, possono diventare seguendo questo percorso formativo dei direttori di sala, ma anche tutto ciò a che fare con il vino, quindi potrebbero diventare dei sommelier. Le novità hanno coinvolto anche gli studenti del liceo Marconi del Pino di Chiavari all'Istituto Chiavarese e sono stati destinati gli spazi riqualificati dell'ex sede del Caboto in via Ghio. L'edificio è stato assegnato al Marconi del Pino, che era quello più insofferente, che aveva più sedi sparpagliate sul territorio, quindi adesso il Marconi del Pino è oltre alla sede di piazza Carottina Siria, è presente in salita Gianelli, l'edificio Maria Luigia e in via Ghio. L'aver raccolto in un unico plesso le diverse sedi distaccate del Marconi del Pino ha liberato alcuni spazi dell'edificio di via Castagnola, nel quale adesso trovano spazio tutte le classi della succursale del liceo linguistico da Vigo, che a sua volta ha lasciato le tre aule che erano state prestate dal liceo artistico Luzzati. L'altro cambio è stato che è una succursale dell'istituto Giannini, ex Caboto, che aveva due aule in via delle vecchie mura e adesso è nell'altro edificio in Corso Millo, in casa Marchesani. A che punto siamo invece con il progetto del polo scolastico nella zona della colmata di Chiaveri? Come sapete c'è stato fatto un concorso di idee, c'è stato un progetto vincitore, noi abbiamo, siamo andati avanti su cercare di approfondire la possibilità di renderlo più operativo, quindi abbiamo fatto un semi studio per poter vedere l'eventuale articolazione in fasi operative diverse. E' logico che adesso la parte importante sarà trovare finanziamenti sia per la progettazione che per la realizzazione dei lavori. E rimaniamo in tema perché è iniziato il viaggio premio a Strasburgo per nove studenti dell'istituto Giannelli Campus di Chiaveri, vincitori del concorso, diventiamo cittadini europei, 30 giovani al Parlamento europeo, indetto da Regione Liguria. I ragazzi soggiorneranno in Alsazia sino a venerdì 11 ottobre per conoscere da vicino la macchina organizzativa del Parlamento europeo e per cogliere l'importanza del lavoro svolto quotidianamente dalle istituzioni europee. Stiamo vedendo la foto. Durante l'udienza generale Papa Francesco ha ripreso il ciclo delle catechesi dedicate allo Spirito Santo, fondamentale per assicurare unità e universalità della Chiesa. Sentiamo la sintesi. Come far coesistere la tendenza all'universalità, quindi a includere più persone possibili nonostante le differenze culturali, è quella l'unità, quindi essere in dialogo e in incontro attorno a punti comuni. Prova a spiegarlo il Papa durante la catechesi dell'udienza generale del mercoledì, in cui torna a parlare dello Spirito Santo dopo la pausa di mercoledì scorso dovuto alla messa di apertura del Sinodo. Francesco parte dal racconto della discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, contenuto negli Atti degli Apostoli. Per rappresentare al meglio l'universalità ci sono gli Apostoli che riescono a parlare tutte le lingue del mondo, fondamentale per comunicare e annunciare, in linea con la missione universale della Chiesa. E lo Spirito continua il Pontificio a lavorare in due modi per l'unità, spingendo la Chiesa verso l'esterno perché possa accogliere il maggior numero di persone, ma senza compromettere l'unione delle sue parti. Questo avviene con un lavoro discreto rispettoso dei tempi e delle divergenze umane, passando attraverso persone e istituzioni, preghiera e confronto. Lo Spirito Santo non opera l'unità della Chiesa dall'esterno, ma non si limita a comandare di essere uniti, è lui stesso il vincolo dell'unità, è lui che fa l'unità della Chiesa. L'unità della Chiesa è l'unità tra le persone, quindi non si realizza a tavolino, serve un impegno e disponibilità continua. Il motivo che questo è difficile, l'unità fra noi, è che ognuno vuole, sì, che si faccia l'unità, ma intorno al proprio punto di vista, senza pensare che l'altro, che gli altri, quello che sta davanti, possa esattamente la stessa cosa circa il suo punto di vista. Al termine dell'udienza, il Papa ha rinnovato l'appello a pregare per la fine delle guerre in corso. A lei, Madre Premurosa, affidiamo le sofferenze e il desiderio di pace delle popolazioni che subiscono la pazzia della guerra, in particolare la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, il Sudan. Le reliquie del beato Rosario Livatino per tre giorni saranno esposte anche nella nostra Diocesi di Chiavali, in iniziative promossa dal Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, il Servizio per la Pastorale della Scuola Cultura e la Scuola Diocesana di Teologia. Rosario Livatino è stato un magistrato assassinato dalla mafia grigentina nel 1990, morto a soli 38 anni e popolarmente conosciuto come il giudice Ragazzino. Livatino, sin dal suo ingresso in magistratura, affidò il suo operato a Dio sotto il motto Sub Tutela Dei. Nel 1993 il vescovo D. Agrigento autorizzò la raccolta di testimonianze per la causa di beatificazione approvata da Papa Francesco e celebrata nel 2021. La camicia, indossata da Rosario Livatino il giorno dell'attentato mortale, è rimasta intrisa di sangue e divenduta una reliquia che giungerà in diocesi venerdì sera a Rapallo. Alle 21 all'oratorio di San Pietro di Novella si terrà un incontro dal titolo «Quale giustizia oggi?» interverranno Elisabetta Vidali, presidente della Corte d'Appello di Genova, Anna Canepa, sostituto procuratore della direzione distrettoare antimafia di Roma, Simone Frega, assegnista di ricerca in istituzioni di diritto pubblico alla Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa. Sabato la reliquia giungerà nella casa di reclusione a Chiavari, dove il vescovo alle 9.30 celebrerà la Santa Messa. Nel pomeriggio alle 18 tornerà a Rapallo, dove il vescovo celebrerà la Messa alle 18 nella Basilica dei Santi Gervasi e Protasio. Domenica alle 11 la Santa Messa nella parrocchia di San Giuseppe ai Piani di Ria Chiavari, presieduta da Aldo Sciabarrasi, delegato dell'Arcidiocesi di Agrigento. E saranno celebrati venerdì mattina alle 10 nella Cattedrale a Verona i funerali di Don Guido Todeschini, fondatore di Radiopace e Telepace a Verona, scomparso ieri all'età di 88 anni. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Teleradiopace 1 al Canale 12. Don Guido è stato una figura di riferimento importante per la nascita della nostra emittente chiavarese. Sentiamo il ricordo del nostro direttore Don Fausto Brioni. Tutta la nostra emittente è molto grata a Don Guido Todeschini per l'aiuto che ci ha dato, per la nascita della nostra emittente, nata dall'ispirazione che lui stesso ha avuto ormai tanti anni fa per far nascere Telepace di Verona. Era il 25 di aprile del 1990 quando ci siamo incontrati per la prima volta a Cerna nella sede di Telepace di Verona e da lì è nata subito un'amicizia che negli anni si è consolidata con una concretezza di aiuto data dall'emittente veronese alla nostra tv nascente. Noi siamo nati nel maggio del 1990. Don Guido è un uomo di profonda carità che si è sempre fidato della provvidenza e che ci ha insegnato a costruire quella forma di affidamento al Signore che passa attraverso il servizio che stiamo facendo. È un uomo di carità Don Guido che ha segnato la vita della sua diocesi e di tanti che attraverso l'emittente televisiva hanno ricevuto del bene da lui. E la televisione, Teleradiopace e Telepace sono una forma di aiuto attraverso il portare nelle case di tanti il messaggio del Vangelo, portare nelle case di tanti una parola di speranza, una parola di luce, a servizio di Dio e a servizio dell'uomo. Don Guido in questi anni ha servito tanto, in tanti modi, aiutando chi aveva più bisogno e dando sempre vigore e spirito a quell'emittente che continuerà dopo di lui grazie ai suoi collaboratori. Anche noi dobbiamo essergli grati perché soprattutto nei primi anni, quelli difficili per capire se era una possibilità reale quella di mettere in piedi un emittente come la nostra, ci ha dato sempre vigore e speranze e diceva avanti, avanti, abbiate fiducia, è un disegno che sta nel cuore di Dio, quello di essere in questa direzione strumento di comunicazione nel mondo della comunicazione elettronica. Allora grazie Don Guido di tutto il tuo bene, siamo certi che da lassù sarai ancora un aiuto per tutti. Venerdì 18 ottobre negli spazi parocchiali di San Pier di Canne a Chiavari, i giovani che hanno trascorso un tempo delle loro vacanze nella missione interdiocesana Santa Clara a Cuba, condivideranno i loro racconti con quanto vorranno approfondire la conoscenza sull'esperienza vissuta dai ragazzi e dalle ragazze. Questa sera nella rubrica Missione Mondo in onda alle 21 su Teleradiopace 1 al canale 12 potremo ascoltare alcune anticipazioni. Sentiamo. Avete vissuto un'esperienza veramente a 360 gradi, cosa significa restituirla? Restituire forse è una risposta che posso darti a partire dal titolo che è con la gioia nel cuore. Abbiamo ricevuto talmente tanto che quando tu ricevi così tanta gioia non puoi tenerla per te, la devi dare, la devi comunque condividere. Una gioia se non è condivisa non è sincera, non è vera. Quindi gioia che nasce anche da un'esperienza totale a livello di umanità incontrata, con tante ferite, ma anche tanti sogni, con tanta fede. E' un qualcosa per cui il fatto che noi siamo partiti, non solo per noi stessi, ma anche per la comunità che ci ha sostenuto in tanti modi, ne abbiamo parlato, la generosità, ecco, è quello di cui vogliamo rendere parte. L'appuntamento quando è, Martini? L'appuntamento è per venerdì 18 ottobre, a partire dalle 7, inaugureremo una mostra di fotografie che ho potuto scattare nei luoghi di Cuba alle persone che abbiamo conosciuto e che hanno accompagnato questo nostro viaggio e accompagnati da dei suoni che ha registrato Lorenzo del posto. Successivamente alle 7.45 più o meno ci sarà la pericena in stile cubano, ecco, e infine alle 21 si potrà ascoltare una nostra testimonianza, ecco, di quello che è stato comunque il viaggio e la missione. Perché suoni, immagini e sapori? Per semplicemente riprendere la realtà del posto, in tutti i sensi, con tutti i nostri 5 sensi che abbiamo, insomma, vedremo. Sarà un buon appuntamento, secondo me. Il 18 ottobre alle opere parrocchiali di San Pier di Canne, ore 19, poi vediamo fino a che ora arriviamo, va bene? Le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Lega Ambiente, LIPU e WWF Italia esprimono soddisfazioni dopo la sentenza del Tar Liguria pubblicata il 7 ottobre in merita all'istituzione del Parco Nazionale di Portofino. Il Tar spiegano, conferma infatti la legittimità del perimetro provvisorio del Parco Nazionale, sebbene per motivi formali e procedurali annulli il Comitato di gestione provvisoria e la zonizzazione provvisoria dell'area protetta con la relativa modulazione delle misure di conservazione. Il Ministero, quindi, commentano ancora le associazioni, è ora chiamato a formulare senza ritardo nuove misure di salvaguardia specifiche, sottoporle ai comuni e alla Regione per la determinazione di loro competenza e rinominare il Comitato di gestione provvisoria, così da approdare senza ulteriori contestazioni alla seconda e ultima fase del procedimento, avendo ad oggetto la perimetrazione e l'istituzione definitiva del Parco Nazionale. La stagione dei funghi è iniziata molto bene nei boschi del Parco del Laveto, aiutata dal meteo ancora caldo e abbastanza piovoso. Le precipitazioni di questa settimana stanno intaccando le nuove nascite, ma se le temperature rimarranno alte, la raccolta potrà proseguire ancora per alcune settimane. Sentiamo. Il tempo ha un po' rovinato i piani, ma la stagione dei funghi era iniziata bene e meteo permettendo potrebbe tornare a dare soddisfazioni a cercatori appassionati. Anche chi se ne occupa da un punto di vista scientifico, come il gruppo micologico Grasso di Rapallo, spiega che si stanno trovando tantissime varietà. In questo caso non parliamo solo di specie commestibili, ma di tutte le varietà che vengono raccolte per essere esposte in mostra a scopo divulgativo. Abbiamo presentato delle specie che non erano mai state rinvenute, almeno da noi e da quando facciamo i monitoraggi, non erano mai state rinvenute all'interno del Parco del Laveto. Ad esempio la gallerina marginata, c'è un fungo assolutamente mortale, per fortuna un funghetto piccolo, da poco nell'occhio, però è un fungo molto molto pericoloso. Si ha trovato ancora una simbola quantità di armenita palloide e questo è un altro fungo estremamente pericoloso. Devo dire che boletacei non ce ne erano tante, devo anche dire che i cercatori, per virgolette, professionisti, hanno fatto dei miei bottini in questi giorni. Lo scorso fine settimana il gruppo ha esposto oltre 100 specie durante l'agricassa di Borzonasca. Domenica 13 sarà una rapallo in piazza Venezia, mentre il 20 a Bavari nella sedia della Croce Azzurra. La speranza in vista di questi appuntamenti è che il meteo ritorni favorevole. Se le temperature sono favorevoli e non si mette a tramontana, io penso che ci saranno ancora delle nascite, non dico copiose, ma soddisfacenti. A impressionare in questa stagione è stato il numero di incidenti nei boschi, sempre abbastanza frequenti in questo periodo. Solo in queste settimane ce ne sono stati anche due mortali nell'entroterra del Levante. Molte persone sono fatte male perché andare nei boschi con i boschi bagnati purtroppo è sempre un'incognita. Sono stati parecchi feriti, purtroppo c'è stato anche qualche decesso. Un'era numero di interventi nei bisogni del fuoco e del soccorso alpino. E a proposito di qualche inconveniente che può intervenire durante la raccolta dei funghi, proprio questa mattina c'è stato un intervento per un cercatore di funghi di 72 anni residente a Camogli che è stato colto da malore nella zona di Redicoppe, Santo Stefano Daveto. L'uomo si trovava insieme al figlio che ha allertato i soccorsi. Sul posto, con un proprio mezzo adatto a percorrere strade sterrate, il personale del soccorso alpino ha provveduto a visitare l'uomo che non ha mai perso conoscenza e a stabilizzarlo. Quindi è stato caricato sul mezzo e portato sulla strada. Quindi l'ambulanza della Croce Rossa di Santo Stefano lo ha trasportato al pronto soccorso di Lavagna. Ora spediamo le pagine dei quotidiani, poi tutti gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola minorenni sul filo. Aumentano i reati a danno dei bambini, 19 ogni giorno tra maltrattamenti e abusi. E tra i ragazzi invece cresce l'uso di pistole e coltelli, i fenomeni delle baby gang, risse e vendette. E sotto però lo studio dell'Ox e Pisa ci dice che gli studenti attuali sono creativi e in cerca di nuovi stimoli. Andiamo invece in Israele, c'è appunto una dichiarazione di Netanyahu, il Libano rischia il destino di Gaza, soldati nel sud, ma c'è anche il nodo dell'unifil degli eserciti presenti sul territorio, tra cui anche quello italiano. Io unico prete per tutto il Bhutan, nel paese buddista ci sono 200 cattolici su 790 mila abitanti, si parla Kingsley Tersing, 67 anni, gesuita, che racconta la sua storia ad avvenire. Poi si parla di politica interna, manovra tra i punti fermi e resiste l'aiuto alla natalità. Sulla consulta una fumata nera e accuse incrociate tra i partiti della maggioranza. Gabaglio coraggio e generosità, ricordo delle acli, integrazione sono un estremista e a Bologna venne espulso l'imam. Ucraina e Russia avanzano, nuovi raid su Odessa. Nella prima pagina del secolo, Bucci Orlando e il confronto, intervista incrociata ai due principali candidati alla regione Liguria e una nota del neodirettore del secolo, Michele Brambilla, ecco con chi non si schiera il secolo XIX, che è solo un giornale. Estimi catastali, case e tasse più alte a chi ha ristrutturato con i bonus edilizi, dice Giorgetti, e poi assalto al reporter del TG3, muore l'autista della troupe televisiva nel Libano meridionale. Mal tempo in Liguria, esondazioni e allagamenti, ora la mareggiata, la trattativa, porti firmato il contratto, arrivano 200 euro in busta. Terminiamo con le pagine del Levante, Rio Marsiglia discarica rischio fallimento, rosso di 2 milioni, lasciano due consiglieri, parla il presidente del consorzio tra 18 comuni Canevello, affido in gestione l'unica possibilità rimasta, alla finestra rimangono Iren e Amiu. E adesso la parola passa ai colleghi del cittadino di Genova. Il cittadino numero 35 di questa settimana dedica l'apertura all'inizio dell'anno pastorale, incentrato sul cammino verso il Giubileo e che si svolgerà domenica 13 ottobre in cattedrale con l'Arcivescovo. All'apertura dell'anno pastorale sono invitati i sacerdoti, i religiosi e i fedeli laici. Vita della Diocesi al Via, il prossimo 19 ottobre in seminario, gli incontri Samuel per ragazzi e ragazze. Una pagina con l'articolo del Rettore illustra il cammino che si svolgerà in quattro incontri. Raccontare la gioia familiare, un articolo e la locandina per annunciare la prossima giornata diocesana delle famiglie che si svolgerà il prossimo 27 ottobre a Campomorone. Formarsi per assistere le persone fragili, inizia a cura dell'ufficio diocesano per la pastorale della salute, un corso per parrocchie, associazioni e famiglie. Un articolo ne illustra il programma e il calendario degli incontri. Formazione diocesana unitaria dal 9 novembre nelle zone, il prezioso servizio dei facilitatori. Un articolo ne illustra il ruolo particolare che svolgeranno queste figure nel percorso diocesano annuale. Nelle pagine centrali, il manifesto da affiggere nelle bacheche parrocchiali che annuncia l'ordinazione diaconale di due seminaristi e che avverrà domenica 20 ottobre alle ore 16 in cattedrale. Come sempre spazio allo sport e alla cultura con l'apertura dei siti medievali diocesani per la manifestazione Ianoa Genova nel Medioevo. Tutte le altre notizie all'interno del giornale sulla nostra app e su www.lcittadino.g.it E prima della pagina sportiva gli aggiornamenti dalla redazione. Oggi per noi Andrea Capitani. Grazie, Cristina, la cronaca perché sono stati individuati dagli agenti del commissariato di polizia di Chiavari due presunti responsabili di un furto con destrezza eseguito con la tecnica dell'abbraccio messo a segno nel mese di luglio a Chiavari. Si tratta di una coppia di stranieri un uomo e una donna di 29 anni domiciliati a Savignano sul Rubicone in Emilia già in carcere per altri reati analoghi. L'indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata da un uomo che era stato poco prima avvicinato e derubato in strada da una giovane la quale dopo averlo abbracciato senza suo consenso gli aveva sfilato dal polso l'orologio un Rolex del valore di oltre 10.000 euro. I poliziotti sono riusciti a risalire all'identità grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine dalla quali si è visto che i due avevano anche tentato un altro furto analogo non è andato però non a buon fine. E dalla redazione tutto lì nello studio. Grazie, ora parliamo di sport, pallanuoto, la piscina di Lavagna ospita domani sera la partita di Euro Cup tra Prorecco e Duisburg. i biancocelesti arrivano da due vittorie e una sconfitta nella fase preliminare ma partono favoriti. È solo la quarta partita della stagione ma è importante vincere per non compromettere il percorso europeo. La Prorecco arriva alla partita contro il Duisburg dopo due vittorie e una sconfitta nel girone preliminare di Euro Cup. Quello che inizia domani alle 20 nella piscina di Lavagna è il gruppo di qualificazione che possiamo equiparare agli ottavi di finale. Oltre alla squadra tedesca ci sono anche il Mladostragabria, Lorzolnochi. Sono previste partite di andate e ritorno in programma tra ottobre e novembre. Giovedì in vasca per la squadra di Echelina non ci sarà Cannella fermato per un turno dopo il rosso rimediato nei preliminari contro il Vasustas ma ci sarà Petra Vujosevic arrivato quest'anno dalla rarinante Scamogli. Sandro mi ha chiamato, mi ha chiesto se voglio venire qua e ho detto subito sì, vado a Recco, ero molto felice anche solo oggi quando qualcuno chiede per Recco questa è una bella cosa. Dopo le incertezze societarie di quest'estate dall'addio di Volpi annunciato a luglio alla notizia dell'arrivo di una nuova proprietà poche settimane fa nel mezzo c'è stato tanto lavoro dei dirigenti e dello staff rimasti ma anche un ridimensionamento dalla rinuncia alla Champions League per l'Euro Cup alla partenza di alcuni giocatori rimpiazzati principalmente con giovani. Il Recco rimane comunque una squadra forte e blasonata. Io penso che noi siamo una squadra che è meglio, tanto meglio di questo Duisburg ma per tutti quando gioca contro il Pro Recco tutti fanno 100% di sua opportunità e dobbiamo essere molto buoni preparati con la testa e fisicamente anche con la tattica normale dobbiamo vincere, dobbiamo portare questo a casa. Per vedere Pro Recco Duisburg dal vivo i biglietti si possono acquistare nella segreteria della piscina di Lavagna al prezzo di 10 euro. La Pro Recco tornerà a giocare a Lavagna sabato 12 ottobre alle 15 con l'esordio in campionato contro la De Hacker Bologna. Ora l'agenda di Telepace. Gli appuntamenti di mercoledì 9 ottobre la Galleria Nazionale di Palazzo Spino la Genova torna a ospitare i concerti d'autunno con un'esibizione al pianoforte di Claudia Vento alle ore 16. Nella sala a livellare di Via del Pino a Chiavari nuovo incontro dei corsi di cultura dalle 16.15 il relatore Gianluca Lizza terrà una lezione dal titolo Presenze Liguri alla Biennale di Venezia durante il Novecento. L'ASL4 chiavarese organizza un corso di formazione per nuovi volontari nell'ambito di servizi ospice e cure palliative sul territorio. Primo appuntamento dalle 17 alle 19 nella sala RSA dell'ospedale di Chiavari. Nuovo incontro dell'iniziativa Lavagna Tutto Libri alle 17.30 nella biblioteca Serbandini Bini il giornalista e scrittore Aldo Boraschi parlerà della sua opera Quello che resta. Nella sala del minor consiglio di Palazzo Ducale a Genova Marco Mian presenterà alle 18 il suo libro Volga Blues Viaggio nel cuore della Russia dialogheranno con l'autore Tonino Bettanini e Marco Ansaldo. Al Gran Caffè de Filla di Chiavari alle ore 18 saranno presentate le edizioni tradotte di opere letterarie scritte in esperanto per promuovere la cultura e la tradizione legate a questa lingua. La scuola di teologia della diocesi di Chiavari propone una lezione dal titolo La Chiesa Evangeli Apocrifi Qualcosa è stato nascosto? Relatore Adriano Virgili esperto in storia del cristianesimo dell'università La Sapienza di Roma. Nella chiesa di San Bartolomeo della Ginestra a Sesti Levante alle 21 si terrà il dialogo sul tema La Chiesa che morirà e la Chiesa che vivrà ospite dell'incontro il priore dell'abbazia di Novalesa Michael Davide Semeraro Modera Don Enrico Bacigalupo E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale l'informazione serale ritorna alle 19.15 20.20 22.45 grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata